ciao a tutti video blog delle vacanze oggi al mare benvenuti a san pietro in bevagna in foglia guardate che mare ecco i giochi dell'estate niente oggi così piove oggi ha fatto un temporale e se vedete qui c'è il drone stiamo approfittando fare qualche ripresa carina perché nonostante siano arrivate un po di mal che la colorazione del mare pazzesca a 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 splendida spiaggia di punta prosciutto guardate che colori a 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